Ormai è diventato un tormentone. Se Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, viene intervistato da Sky, accanto ai commenti sulla partita della sua squadra deve esserci sempre il siparietto su Ilaria D'Amico, volto di punta delle trasmissioni sportive sul satellite e fidanzata del portiere della Juventus e della nazionale Gigi Buffon. Così, dopo la prima proposta, ti faccio fare un film, dopo il rap su Ostia Lido, ora Ferrero ha deciso di mollare la presa. E al giornalista che gli chiedeva, prima della gara, una battuta sulla D'Amico, Ferrero ha risposto, no, non si può più nominare, poi Buffon si arrabbia. Non sappiamo se questa dichiarazione sancirà la fine di questo rapporto a distanza Ferrero-D'Amico. Certamente il presidente, produttore cinematografico ed ex attore, si conferma uno dei personaggi più amati della serie A. Grazie a tutti.